Ecco, da provvidenti lancio un invito, anzi vi dico un desiderio, ve lo comunico. In queste sere di maggio, ogni sera alle ore 21, busserò attraverso questi mezzi di comunicazione alla porta di una famiglia che abita in un comune della nostra Diocesi, in una famiglia dove si recita il rosario. Non vado io o non vengo io a recitarlo, ma vengo a pregare con quella famiglia, a pregare insieme a quella famiglia, come ad evidenziare che per noi pastori la famiglia che prega è una risorsa, è un sostegno, ma anche una grande speranza, perché la presenza di Dio irrobustisca la nostra esistenza e la irrori della sua pace e della sua consolazione. Perciò vi invito a seguire attraverso i network della Diocesi, Facebook oppure YouTube, ecco, a seguire questo momento e ad unirvi alla preghiera di quella famiglia insieme a me. Grazie.